Ciao a tutti ragazzi siamo ritornati su minecraft e questa volta sono nel server pigparty che è per i premium e senza premium quindi per tutti Andiamo di nuovo nella modalità lucky worst ma questa volta è più bella e vi faccio vedere subito il perché Allora se andiamo nelle opzioni possiamo votare il tipo di salto salto normale salto alto e salto super salto da dio che ve lo giuro mi fa saltare altissimi sembra tipo lo stile call of duty così che tipo si salta e che ne so si spara il nemico E' bellissimo votiamo anche il tempo mettiamo mezzogiorno dai se non si vede niente vota per il tipo di tempo si lo stesso vota per il tipo di cassa cassa OP ovviamente Dove all'interno come vi ho detto nel video precedente si possono trovare robe buonissime quindi io spero subito di trovare una perla omega di andare subito da un mio avversario Eccola qua la mia perla omega allora mentre loro aprono le casse aspettate io vi metto subito sistemato affilatezza 5 addirittura eh Mettiamoci la perla omega qui c'è qualche altra cassa? Ah si si c'è un'altra cassa quindi prendiamola subito Oh benissimo questo è impatto 5 cioè impatto 4 scusate raga è potente Allora facciamo una cosa andiamo subito dal nostro amico aspettando che comunque lui come dire si distrae Aspettiamo vediamo che fa lui Aspettate fammi oh e dai fammi salire qua sopra Ok lui è distratto ed è lì io vorrei buttare una perla omega qua mettermi subito Ok 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 l'abbiamo ucciso l'abbiamo ucciso Ok mettiamoci l'arco in questo slot e cerchiamo di mandare quello lo buttiamo fuori L'abbiamo ucciso un colpo l'abbiamo ucciso è potentissimo questo arco raga siamo rimasti in sé di noi Eh 8 scusate non voglio aprire assolutamente i blocchi perché sono sfortunatissimo e sicuramente Eccolo 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 Oh ma raga quello non è caduto quello mi puzza di hack sinceramente eh Come stavo dicendo non voglio aprire i blocchi perché sono sicuro che comunque io vado a finire Mandiamo quello Se ne è sceso giù il tipo eh Allora io mi metto subito una perla omega qua Vorrei cercare assolutamente di andare da quello Facciamo così Una perla omega là eh Va bene La spada dove sta? Ok mettiamolo qua Lui non lo vedo più sta giù Vabbè nel dubbio mettiamo la lava Perfetto Non lo vedo più Ma dovrebbe stare giù per forza eh Per il momento non vedo nessuno Non lo vedo il tipo non lo vedo Quei due sono sopra e stanno facendo team Cerchiamo di prenderli assolutamente Dai almeno uno Almeno uno Almeno uno Oh questo che sta a fa? Questo che sta a fa? Buttiamoci un po' di Di TNT Oddio che casino raga Che casino Eccolo qua Eccolo qua Lui c'ha l'arco No 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 Aspettate Mi faccio vedere io che faccia Eccolo No mi ha buttato giù Sto stronzo di merda Mi ha buttato giù Ok raga Sono entrato In un'altra partita Avete visto come sono morto prima Mi sono incazzato Quando ho messo pausa al video Perché non è possibile Quello era morto Stava per morire Ma Lui è stato molto Molto più bravo di me Allora Prendiamoci tutto Ok Allora mettiamoci Corazza Protezione 5 Cappello Questo e quest'altro Mangiamoci Una bellissima Mela d'oro Ok Mettiamoci la spada Affilatezza 5 Al primo slot Queste qua L'arco lo possiamo mettere qua Ok Possiamo anche andare dal tipo Possiamo anche andare dal tipo Però Lui Ha preso già tutto Si è teletrasportato Si è teletrasportato Quindi Aspetta Ah quello sta giù Quello sta giù Quindi io direi di andare da Da questo Assolutamente Ok Mi butto Eccolo Eh dai che sei morto Eh dai che sei morto Va benissimo così raga Un'uccisione Fatta E anche Confermata No Ok Quello è là sopra Uh Wow Si è dato fuoco E vai E vai E vai Abbiamo ucciso anche quello Abbiamo ucciso anche quello Benissimo Ok Per ora Ripariamoci Mettiamo un paio di blocchi qui Non si possono mettere No Ho paura Ho paura Dove sono tutti Allora Andiamo Di nuovo in questa isola Oh Acqua 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 Non c'è niente Vabbè vabbè Avevo protezione dal fuoco Quindi perfetto Ah ecco il tipo Ecco il tipo Direi di andare Ok 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 Mi sono salvato Mi sono salvato Mamma mia Mamma mia Che colpo Che colpo Siamo rimasti io Contro un altro Che non vedo Quello è morto Vabbè Ho vinto Ho vinto E' caduto Quello E' caduto Oddio Oddio Grande Finalmente Cioè Avete visto che Che Diciamo che C'è Kino Che sono con l'arco Soprattutto anche Molto fortunato Vabbè Spero che il video Vi sia piaciuto E ci sentiamo Al prossimo episodio Ciao a tutti ragazzi